ragazzi ragazzi riego tornate in questo nuovo video oggi nella affronterà nuovamente un quiz sul nostro canale soltanto che rispetto all'ultima volta è un pochettino diversa fatti stile in maniera diversa quindi partiamo vediamo se casca nel tranello e non è quello di harry potter e ho anche un po trabocchetto sta domanda però se ci ragioni bene l'ho capito c'è qualcosa che non va eh ho notato anch'io bravo ti ho detto che se ragioni ci arrivi no no ok questa se hai visto un video lo sai ok prima errore per per nayla non è al 366 quindi dai giocati 50 50 gli è andata bene si stava fermando per capire se moriva o meno chiaramente con l'oro amici per la pelle beh è chiaro che lo sai perché vedi video alcune sono sì certo sì anch'io anch'io me contro te molestamente non li sopporta praticamente nessuno mi ha fatto e allora la risposta corretta adatta all'altro quiz questa è tosta eh questa è tosta potenza c'è nessuno di questi li conosci ma c'è nessuno di questi li conosci c'è nessuno di questi li conosci Questa non è così semplice Perché poi Non lo so Conosco Il GPR Corino Erika Non conoscere il chest Che secondo me E secondo anche Chiara È la migliore recensiera di giocattoli Nessuna è più brava di lei Secondo il mio punto di vista è la migliore su YouTube Italia Chi è? Non so proprio chi sia Con gli occhiali c'è un amico che si chiama Marco Che noi conosciamo anche Siamo stati anche in un suo evento Aspetta è quella che ha la forbice Elisa brava lei esatto Ma io lo conosco come Da tipo a che parla alle forbici Ah A recensire è un genio Molto meglio di noi Purtroppo non so Rainbow Six Italia Non so assolutamente che sia Rainbow Six Italia sarebbe Praticamente Quello fatto che ho fatto io Sul Sul palco Quindi Buttati che morbido Male che va No Ok Mi sento pronta eh Quindi ti senti pronta a capire A capire qual è quella giusta Allora c'era un errore Nella Questa domanda Ed erano i mates I mates non li abbiamo mai conosciuti Perché se conoscevamo i mates Eravamo a quest'ora Altro che famosi Questa non la zecchi Hai il 33% di possibilità Questa devi andare proprio a fortuna Secondo me Perché questa è difficile In realtà Ha paura Ha paura Del volume di danni E lo c'entra Magari l'aveva pensata giusta E chi lo sa Era lì in mezzo Magari l'aveva pensata No Dai Te l'ho messa io La trappola Stavolta Perché sapevo Che era quella a sinistra Quindi siamo All'errore Numero 3 E adesso Vediamo se questa la sai Questa ci è andata Proprio di Di logica Chiaramente gioielli è sport Sì sì Ok Adesso giriamo Le domande Cambiamo un po' Argomento Chiara Aspetta Noi stavamo andando Dalla tua Aspetta Milan no Perché no No Però la Juventus Sono gli altri Ok Ok Questa la sai Non l'ho sbagliata Questa No Se la sbagli Sono cent'anni di galera Eh Nela Come? No No Non c'è la salone Quindi l'unica La traduzione Creativa A me mi piace Creare mappe Io sono un creativo Se hai visto il video Te lo ricordi Dai prendi lo sto Umole di danni Su sta venendo Eh Questa è la rimorta Serena Quanti di tour famosi Aviamo conosciuti Conosciuto Alcune risposte Che Ovviamente Le avevi Azzeccate Nell'altro video Quindi sta andando Un po' anche a memoria Non lo so Non lo so Questa non lo so Ma un botto Quindi andiamo qua No Stai ad esagerare Un po' troppo Z50 Riempio la casa E poi Ah 100 Quanti iscritti Abbiamo guardato Al massimo In una settimana Sì ma era Quella centrale Non ha composto La logica Non mi ricordo C'è Quarto Quarto errore Forse Per te Sì Mi sembra una cosa Al genere C'è anche Quinto Però 1200 Se sbagli Questa Penso che Chiara Ti Ti truscida Eh aspetta No Eh Aspetta Vlog no Gioielli Sì ma anche Giocattoli Non può entrare Nella sua mente Quindi Boh Ok Chiara Quando vedi sto video C'è la condanna a morte pronta Voila Ecco Poverina Poverina non poteva neanche Le prevedere Chiara sarà contente Che sbagliate la domanda Sui gioielli Si metterà le mani nei capelli Ne sono convinto E nulla ragazzi Spero che questo video Cos'è Perché prima portavo un voto di giocattoli Eh certo esatto Ma Adesso Un po' meno E con la legge Ha scongruzzato un po' tutti i canali di giocattoli Comunque Noi come sempre ci vediamo In un prossimo video Sì ok E Quindi supportateci con un like Iscrivetevi al canale Se vi fa piacere Noi ci vediamo Come sempre Alla prossima Ciao Ciao